La Sardegna andrà al voto amministrativo il 31 maggio, nei comuni in cui è previsto invece si andrà al ballottaggio il 14 giugno. La decisione sulla data delle elezioni è stata presa stamattina dall'Aggiunta regionale su proposta dall'assessore degli enti locali Cristiano Enriu. Pertanto mancano due mesi esatti al rinnovo delle amministrazioni locali che in provincia di Nuoro, oltre al capoluogo, vedranno andare al voto 27 comunità. È indubbio che l'appuntamento più importante è quello che vedrà il rinnovo dell'amministrazione comunale di Nuoro. La città attualmente è amministrata da una giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Alessandro Bianchi. In città c'è fermento per la presentazione delle liste, anche se finora uno solo è il candidato che ha ufficializzato la propria discesa in campo. Si tratta dell'avvocato Basilio Brodu, sostenuto da cinque liste che si pongono in alternativa all'attuale quadro politico. Il centrosinistra dal canto suo deve ancora sciogliere il nodo del candidato sindaco, anche se tutti indicano come scontata la ricandidatura di Alessandro Bianchi. Anche perché, in caso contrario, si potrebbe riaprire la bagarre delle primarie. Ma sono tanti i movimenti e le associazioni che si stanno preparando alla presentazione delle liste e dei candidati alla carica di sindaco. Sabato sono scesi in campo un gruppo di giovani che ha costituito la lista Uniti per Nuoro. Nei giorni scorsi c'era stata l'intesa tra il movimento La Base, la città in comune, e il movimento Ripensiamo Nuoro, che si pone come obiettivo un cambiamento nella guida della città. Stanno muovendo anche i socialisti, Selle e Rosso Mori, ma anche il Movimento 5 Stelle ha deciso di scendere in campo. Nelle prossime settimane sicuramente si assisterà a un'accelerazione del valo delle liste, da cui emergeranno i 24 consiglieri che andranno a formare il nuovo Consiglio Comunale di Nuoro. Un compito non semplice è quello che attende l'Assemblea Comunale, che dovrà affrontare i mille problemi di una città che in questi anni ha perso posizioni sotto il profilo economico, sociale e culturale, avvitandosi in una crisi che sembra senza fine. Grazie. 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 Grazie.